e a questo punto mi auto presento per la lezione che teniamo io e il collega dario gentili adesso su una coppia concettuale progresso e risorsa giusto e dunque io insegno storia della filosofia qua e naturalmente dal mio intervento un po lo sentirete che sono uno storico farò riferimento a cosa del passato pensatori del passato spero di intervenite fate domande cioè interagiamo ecco insomma allora questa parolina progresso che vedete qui dietro di me quando io ragazzo e forse anche prima insomma risuonava più frequentemente oggi è abbastanza caduta in disuso non è più una parola chiave per esprimere qualcosa che circola nell'opinione pubblica e però è interessante comprendere che non è sempre stata presente nella storia del pensiero occidentale è una sorta di invenzione del settecento cioè nel diciottesimo secolo è stata tra virgolette inventata l'idea di progresso non che non esistessero dei dei progressi idea di vari progressi prima fin dall'antichità nelle lingue se qualcuno di voi ha fatto ad esempio latino sa che ci sono delle paroline che si possono tradurre con progresso lo vediamo poi dopo in una delle citazioni però questo concetto la nascita di questa idea del progresso che tecnicamente è un singolare collettivo come questo quello lo vediamo anche dopo ma insomma è un po come la folla no ecco è un esempio è un buon esempio per spiegare come la filosofia appunto inventa i concetti e anche come fare filosofia vuol dire studiare la storia dell'invenzione di questi concetti cioè la storia di questi concetti delle loro trasformazioni e di come a volte cadono in disuso escano di scena entrino in scena siano protagonisti e a volte escano di scena e prima nel settecento vi dicevo si parlava di progressi al plurale intesi come progressi diversi in ambiti differenziati e non per forza correlati fra loro ad esempio ci poteva esserci un progresso un miglioramento in un campo e un peggioramento in un altro poteva esserci un miglioramento in qualche tecnica che ne so nell'agricoltura però nello stesso tempo non è detto che una società che migliorava da questo punto di vista migliorasse anche da un punto di vista sociale del benessere o della moralità non c'era alcuna correlazione tra un benessere in un settore e un miglioramento un miglioramento del settore un miglioramento complessivo e prima del settecento bisogna considerare che le innovazioni anche tecniche erano molto lente se ci pensate che avete studiato storia avete in mente pensate ai comuni all'età dei comuni quella quella cosa di storia che si studia l'età dei comuni quando l'italia la divisa in comuni che erano i protagonisti ad esempio erano quelle corporazioni di arti e mestieri che cos'erano persone che lavoravano ad esempio i fabbri i falegnami e altre tipologie di questo tipo e le innovazioni erano lentissime quindi il giovane che faceva il falegname che poteva avere ad esempio avuto un padre falegname un nonno falegname ereditava tutta una serie di tecniche di saperi di competenze che erano sostanzialmente le stesse le modificazioni erano lentissime nelle generazioni non soltanto se ci pensate c'era anche una fortissima presenza della religione che cui sui dogmi in qualche modo creava un orizzonte comune di aspettative che erano aspettative sull'aldilà sulla vita oltraterrena cioè qui l'esperienza era sempre costantemente quella quindi veniva spostato un eventuale progresso spirituale nell'aldilà uno qui come dire doveva meritarsi quella quella promozione oltraterrena e quindi potevano esserci anche delle delle profezie se volete su la fine del mondo ma erano così lontane che in qualche modo non riguardavano la generazione presente o quella futura e quindi anche se poi venivano spostate queste mete comunque era talmente tante le generazioni di mezzo che in qualche modo questo si manteneva questo sistema di aspettative sull'ultraterreno sullo spirituale e di esperienze che continuavano in maniera molto a essere molto simili per ogni generazione e però alla metà del settecento tutto cambia si apre un nuovo orizzonte di aspettativa grazie proprio a quello che sarà questa idea di progresso c'è uno studioso che si chiama rain arco sellek che ha scritto però non so se la prima di queste slide ah no questa era 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 una slide che avevo per voi ma la vediamo dopo perché sennò ci ci che ha scritto nuovo è il fatto che ora le aspettative del futuro sta dicendo ora nel settecento metà del settecento le aspettative del futuro si distinguono da ciò che avevano offerto tutte le esperienze precedenti si tratta di un cambiamento di paradigma a cui contribuisce la riforma protestante il declino dell'autorità religiosa le trasformazioni nell'economia pensate alla rivoluzione industriale che avrete studiato che state studiando e anche la rivoluzione francese sarà poi un esperienza paradigmatica se poi un giorno magari approfondite leggete alcuni autori e chiave dell'illuminismo vedrete come la rivoluzione francese avvertita dai loro stessi contemporanei come un punto di non ritorno nella storia cioè come un'esperienza che rispetto alla quale non si può più tornare indietro e poi naturalmente le innovazioni scientifiche tecniche pensate all'enciclopedia quindi l'idea di questo progresso nelle arti e nei mestieri ancora erano chiamate così quindi il futuro sarà diverso dal passato non sarà più uguale al passato come prima sarà diverso grazie che cosa alla protagonismo della ragione della ragione e della libertà umana di un uomo che guidato dalla ragione è libero di poter incidere sulla natura incidere sul mondo là fuori attraverso la sua opere attraverso le sue tecniche le tecnologie diremmo noi oggi quell'idea che poi è andata avanti per la quale di antropocentrismo per cui l'uomo è al centro e come dire si serve della natura per questi suoi fini e è nata qua in gran parte o comunque qui si è sviluppata e oggi mostra molti limiti come voi sapete bene no perché siamo in una fase un'epoca storica in cui dobbiamo ridimensionare questa posizione antropocentrica considerando tutti i danni che abbiamo prodotto attraverso delle degli effetti di tecnologie di altri sfruttamenti della terra che non abbiamo ben pensato dove ci avrebbero portato anche questo motivo per cui oggi quelli ideali di progresso è andata in crisi quindi i filosofi sono come l'avanguardia che crea questo nuovo idea questo nuovo concetto di progresso e che poi diventerà di dominio pubblico entrerà nell'opinione pubblica mi sembra che sia proprio coselle che in uno dei suoi libri che racconta di un aneddoto di una famiglia povera incolta di una campagna tedesca in cui il padre un giorno decide di non fare più quella che era un gesto tradizionale di dare una sberla al figlio in occasione di una certa ricorrenza di una specie di rito di passaggio di quando diventi adolescente e la madre la moglie dice ma come mai non hai fatto quella cosa che hai fatto con tutti quegli altri figli è il progresso quindi insomma a un certo punto anche in una campagna tedesca dell'inizio dell'ottocento della metà dell'ottocento arriva quest'idea che però era stata preparata nel secolo precedente appunto dai filosofi e quindi quei significati vengono meno questa era la slide che avevo pensato vedete sono cose che in parte vi ho già detto profectus che era il latino viene viene sostituito da progressus un progresso spirituale diventa un progresso mondano la prima la meta era nell'aldilà di questo progresso adesso è qui sulla terra e e leibniz ad esempio aveva già iniziato a dire questo il progresso è nella perfezione infinita cioè non si non c'è più l'idea ad esempio che c'era prima di un progresso all'interno semplicemente della crescita pensate a una pianta una pianta c'è un seme cresce e poi muore ecco prima l'idea era questa semmai di un accrescimento di questo tipo che poi si conclude ciclicamente ricomincia nella nell'antichità era così adesso non è più così la perfezione infinita e Lessing un altro autore vedete credo che il creatore abbia voluto che tutto quanto ha creato sia perfettibile così che possa conservare la perfezione nella quale lo ha creato quindi quest'idea di una perfezione infinita o indefinita che in qualche modo ci rende soggetti di questo e questo è sempre una citazione da questo vi ho scomposto una citazione da coselle a questa temporalizzazione dottrina perfezio corrispondeva in francia e qui siamo nel 700 francese una delle patri più importanti la parte dell'uminismo e la formazione del termine perfezione ma quindi perfezionamento che era subordinato da russo alla determinazione storica fondamentale di una perfettibilità dell'uomo cioè dato che l'uomo è perfettibile come abbiamo visto anche prima esiste un perfezionamento che diventa su indefinito un processo di perfezionamento continuo crescente pianificato realizzato dall'uomo dagli uomini dagli esseri umani è un cambiamento proprio di paradigma di concezione e quindi di generazione in generazione si continuano a fissare obiettivi che vengono sempre spostati si raggiungono e se ne e se ne e si spostano gli obiettivi e quindi questo progresso viene sempre più diventa un processo una linea verso cui si va e si tende e questo orizzonte forse c'è ancora una slide no ok quindi si crea un orizzonte di aspettativa che in cui il progresso è una come delle stelle ma altre stelle dice cos'è l'ex sempre sono ad esempio l'idea di storia prima si parlava di storie si raccontavano storie si scrivano storie come cronache adesso c'è nasce la storia quel soggetto appunto inteso come un singolare collettivo che è come un attore è una storia universale è una storia dell'umanità sembra quasi un attore che entra in scena e che ha una sua finalità va verso un fine tende verso un obiettivo e quindi come una specie di soggetto che è previdente va e e lavora per noi noi siamo dentro a questa storia che si sta scrivendo oltre a progresso storia anche libertà giustizia rivoluzione sulla base rivoluzione francese sono altri grandi singolari collettivi di quest'epoca prima non esisteva quest'idea di parlare della libertà come se fosse una specie di soggetto a storico astratto a cui ispirarsi e che in qualche modo è come un attore in scena e questo è possibile perché appunto la ragione umana assume questo ruolo principale e anche per via di di questa funzione di organizzazione di 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 ordine funzioni ordinatrice della ragione umana che viene assegnata dal pensiero dalla filosofia della cultura illuminista e e che quindi che produce un ottimismo un ottimismo della ragione se potrebbe dire e paul ricor che un altro filosofo novecentesco scrive che l'idea di progresso vedete nella slide si fonda su tre credenze la credenza che l'epoca presente apra sul futuro la prospettiva di una novità senza precedenti la credenza che il cambiamento verso il meglio si acceleri in una freccia con un'accelerazione infine la credenza che gli uomini siano sempre più capaci di fare la loro storia emancipandosi dal fanatismo dalla superstizione dall'oscurantismo da quel buio da cui l'illuminismo su cui l'illuminismo vuol fare luce saranno sempre più capaci prima è un'avanguardia sono i filosofi gli intellettuali che aprono la strada e poi sempre c'è questa idea di diffusione tanto più che così che tutti insomma che molti diciamo così potranno avere gli strumenti per essere attori di questa grande progetta impresa e tre sono i caratteri del progresso secondo invece uno studioso un nostro collega che insegna l'università di modena carlo altini che uno dei principali studiosi italiani di questo concetto e sono questi vedete direzionalità universalità prevedibilità quindi direzionalità perché il progresso è lineare irreversibile corrisponde appunto a quella storia universale di cui dicevo prima se segue una logica evolutiva è rivolto verso un fine è dotato di un senso universale perché riguarda tutta l'umanità tutto il genere umano è prevedibile perché segue appunto questa logica non è insensato non è casuale ha una sua logica è una teleologia che lo che lo che lo ordina ora non è che tutto sia cioè che questi filosofi siano così ottimisti da non vedere che esistono situazioni anche catastrofiche tra l'altro il settecento è segnato da un evento catastrofico di cui avevo parlato l'anno scorso infatti qualcuno fa segno perché i vostri insegnanti alcuni erano qui l'anno scorso con vostri colleghi e l'anno scorso avevo parlato di catastrofe avevo parlato di questo evento che è il terremoto di Lisbona del primo novembre 1755 che fu un evento catastrofico morirono molte persone questo terremoto fu avvertito in dalla dai paesi nordici fino al alle sponde africane del mediterraneo e chiaramente pose dei problemi problemi teologici problemi morali problemi di vario genere ora non entriamo nella questione ma la risposta è di includere questi eventi non escludere non negare che esistano prendete ad esempio cant cant dice sì ok è stato un male un male per quelle persone che sono morte lì però nel complesso se noi guardiamo più in più in grande la faccenda è solo una piccola è un piccolo evento rispetto a tutto un sistema molto più ampio che ha le sue leggi e che non sono pensate soltanto per gli umani quindi vedete già un'idea di decentrarsi rispetto a un certo antropocentrismo in più canta riprende l'idea di russo che forse quegli umani a lisbona potevano non costruire case in verticale e quindi su una terreno che è sismico a rischio sismico crollano più facilmente se avessero mantegora russo avrebbe voluto che fossero rimaste delle capanne perché va quella sua teoria ma insomma canta è d'accordo che se era sufficiente fare delle casette a un piano e probabilmente non sarebbero cadute non sarebbero morte così tante persone o forse sarebbero morte pochissime però la catastrofe viene in qualche modo inclusa ma non mette in crisi l'idea di progresso in generale cosa cosa succede poi beh intanto alla fine del settecento forse l'autore più emblematico da questo punto di vista e che va sempre ricordato è condorse che nel 1793 1184 scrive questo abbozzo di un quadro storico però guardate nel titolo c'è il plurale dei progressi dello spirito umano siamo ancora lì cioè ancora non non si scrive il progresso benché la teoria di condorsè sia tipicamente già come dire compatibile con l'idea del progresso perché cosa scrive condorsè vedete non è stato posto nessun termine al perfezionamento delle facoltà umane la perfettibilità dell'uomo è realmente indefinita i progressi di questa perfettibilità ormai indipendenti da ogni potenza che volesse arrestarli vedete non ci si torna più indietro la luce dell'illuminismo la luce ragione è sufficiente ha rischiato a sufficienza perché non si possa tornare nelle tenebre non hanno altro termine se non la durata del globo dove la natura ci ha gettati finché esisterà questa terra questo pianeta noi andremo avanti verso questo progresso indefinito e quindi è un perfezionamento persino strutturale della natura persino la natura umana migliorerà progredirà secondo un cammino che lui definisce continuo e mai retrogrado e che lui suddivide in dieci epoche e la decima in cui ancora non siamo entrati per lui è quella in cui poi si arriverà a compimento di questo progresso però ecco cosa succede dopo i filosofi preparano si installa come dire nell'opinione pubblica quest'idea che segna l'ottocento l'ottocento è stato detto da dallo storico jacques le goff l'ha definito il grande secolo dell'idea del progresso perché diventa di massa quest'idea cioè pervade la cultura e se pensate comunque anche certi filosofi che forse voi fate che hanno fatto quarto quindi forse non hanno ancora fatto comte no vabbè l'anno prossimo incontrerete dei filosofi dell'ottocento tipo comte che il padre cosiddetto padre del positivismo in cui appunto il progresso hanno una fondamentale centralità nella sua teoria e poi incontrerete anche autori come heger o marx che comunque in qualche modo sono compatibili con quest'idea guardate che ad esempio il positivismo di comte c'è una traccia ancora nella bandiera del brasile avete mai fatto avete mai guardato con attenzione la bandiera del brasile sapete cosa c'è dentro vediamo qualcuno dice di sì ora è verde c'è del giallo c'è un disegno c'è un rombo mi pare e c'è una scritta perfetto ordem e progresso in brasiliano porto ordine progresso viene da lì perfetto c'è l'evoluzionismo di darwin tutto va tutto come dire compatibile grosso modo con questa con questa idea e però non è che tutto è a favore del progresso non è che tutta la cultura tutti i filosofi tutti i pensatori probabilmente non so in che anno si fa quando leopardi l'avrete incontrato sapete che l'opera non era poi così ottimista soprattutto a un certo punto la ginestra delle leopardi è un dove trovate proprio leopardi che ironizza su queste idee del progresso c'è un verso quello tipico delle magnifiche sorti e progressive in realtà quella una citazione da un da un da un'opera di mamiani che era favorevole al progresso e leopardi la gira ironizzando su quelle magnifiche sorti progressive dell'umanità in cui lui non crede ma non c'è solo leopardi ci sono filosofi come schopenhauer nietz eccetera che come di noi sono così compatibili con quest'idea anzi oppure una letteratura non so se che voi magari conoscete anche a livello un po filmico tipo frankenstein oppure dottor jackie le mister haid oppure dracula sono considerate delle distopie cioè delle visioni utopiche in negativo mentre l'utopia è in positivo c'è qualcosa che in un tempo non chi non in un tempo qui e ora non è un tempo prevedibile in una situazione non ben chiara nel futuro un'ipotesi una specie di immaginazione sul futuro ma distopica cioè negativa cioè dove ci porterà la tecnica dove ci porteranno le macchine quindi e persino la chiesa si mette contro il progresso a un certo punto se prendete papa pio nono nel sillabus che ha scritto nel 1864 l'ultima proposizione dice dice che così è inammissibile l'idea secondo cui il romano pontefice cioè il papa può e deve riconciliarsi e transigere transigere cioè il contrario di essere intransigenti quindi essere d'accordo con il progresso con il liberalismo con la moderna civiltà questa moderna civiltà della tecnica eccetera eccetera fa paura per i suoi sviluppi imprevedibili per il fatto che appunto si dissocia anche da un progresso morale da un progresso della società sotto altri punti di vista e prima ancora delle grandi guerre mondiali nel novecento se prendete un pensatore tedesco carl krauss che nel 1909 pubblica un articolo intitolato il progresso in cui definisce il progresso come una forma e non come un contenuto al massimo come una forma o forse anche un po meno un cliché uno slogan mi sembra che avesse ecco lo fa sollecitato da da un giornale da un quotidiano che ha lì davanti in cui nota questa questo slogan secondo lui sotto il segno del progresso veniva pubblicizzato reclamizzato qualcosa sotto il segno del progresso lui dice bene solo ora riconosco il progresso per ciò che è una scenografia mobile noi restiamo proiettati in avanti eppure continuiamo a calpestare lo stesso punto il progresso un punto fermo ma appare come qualcosa in movimento quindi qualunque cosa fai è come se fossi dentro il progresso come se fosse una gabbia siamo come dire tutti soggiogati da quest'idea del progresso realtà non è detto che ci sia progresso ma noi siamo dentro questa idea è un po come l'idea del pregiudizio no quando uno ha un pregiudizio non si rende conto di averlo finché qualcosa non ti sveglia ecco l'idea un po questa è un luogo comune il progresso per carl krauss ora salto qualcosa per non c'è questioni tempi andiamo avanti nel novecento c'è un altro grande pensatore walter benjamin che ispirato da questo acquarello di paul clay non so se voi sapete che esiste uno grande pittore paul clay ecco è l'autore di quell'acquarello che benjamin compra e tiene in casa sua insomma diciamo così e osservandolo scrive questa pagina che va a costituire è una citazione dalla sua ultima opera perché il povero walter benjamin morirà suicida a port bu nel confine sul confine tra francia e spagna perché aveva paura forte timore probabile che fosse così di essere consegnato ai nazisti lui era un ebreo tedesco in fuga un profugo in fuga nella francia occupata e però a parte ciò scrive questo vedete c'è un quadro di clay che si intitola angelus novus quello è un angelo vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo agli occhi spalancati dovete immedesimarvi in questo filosofo che interpreta questo acquarello chiaramente al viso rivolto al passato dove ci appare una catena di eventi lui l'angelo vede una unica catastrofe che accumula senza tregua rovine su rovine dovete pensare prima guerra mondiale crisi di wall street 1929 seconda guerra mondiale la shoah in corso per quanto non sapesse tutto insomma lui la viveva come ebreo tedesco insomma potete capire che egli vorrebbe trattenersi destare i morti e ricomporre quel che è andato in frantumi ma una tempesta aspira dal paradiso investe le sue ali con tanta violenza che non può più rinchiuderle la tempesta lo spingere irresistibilmente verso il futuro a cui volge le spalle mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui sino al cielo questa tempesta è ciò che chiamiamo progresso ora non so a me in questo momento per pura e sciocca associazione dei mi viene in mente quel cartone animato uoli non so se l'avete mai visto rovine macchine cose del genere vabbè il passato la storia su cui si concentrano gli occhi dell'angelo appare quindi come un cumulo di rovine il progresso non dunque altro se non questo precipitare nella catastrofe della tempesta non è negato c'è il movimento in avanti resta l'angelo procede nel futuro ma mentre si accumulano rovine e quindi la tragedia è in atto ora sembra quasi la profezia di quello che deve ancora venire la bomba atomica oltre la shoah e tutti gli effetti di questo che dovranno essere metabolizzati perché non subito è chiaro anche i filosofi anche i pensatori che cosa significa tutto ciò però tutto questo segna segna il dopoguerra dopoguerra segnato dalla guerra fredda della contrapposizione tra i due blocchi cose che avete studiato storia poi la troverete magari nuovo l'anno prossimo eccetera eccetera e il pensiero della catastrofe nucleare che alleggiava quindi l'angelus novus di bene non è così campato in aria anche nella sensibilità di chi è venuto dopo no e a un certo punto abbiamo la caduta del muro di berlino la fine dei blocchi la fine del pericolo della guerra scatenata in nome delle due ideologie no capitalismo e comunismo la fine delle cosette grandi narrazioni cioè grandi narrazioni su come deve essere il futuro dell'umanità da una parte l'idea comunista e dall'altra quella capitalista eccetera e si entra però in una sorta di eterno presente che tuttavia cosa cosa fa questo eterno presente in cui siamo ancora adesso da una parte vede la crescita ipertrofica delle tecnologie che continuano ad andare avanti pensate questi smartphone che abbiamo tutti in tasca l'ultima edizione l'ultimo iphone l'ultimo android eccetera se non voglio fare pubblicità occulte parte che otto modelli fa però non c'è questa cosa che conosciamo l'ultimo modello uscito uscirà la gente che fa la coda davanti ai negozi di x y e poi questo sfruttamento delle risorse incontrollato di cui adesso ci stiamo scusi stiamo svegliando abbiamo l'agenda non 20 30 come ha detto il professor giovannini ha detto meglio dire 2030 perché questo ci impone di di fare di più perché 20 30 sembra così una sigla un logo invece no 2030 qui fra poco abbiamo degli obiettivi da cercare di raggiungere perché abbiamo incontrollatamente sfruttato questo pianeta le nostre risorse di cui parlerà forse anche dario dopo e siamo in quest'epoca in cui da una parte abbiamo questo continua questa che non è più progresso e innovazione non si usa più la parola progressi usa però innovazione o crescita ma è una crescita tecnica vedete o cresce il pil il prodotto interno lordo e c'è persino chi dice se non cresce il pil qui non crescerà nemmeno la dove basso tipo in africa c'è tutte queste cose per cui vengono ci sono anche delle specie di ricatti teorici per cui se noi non cresciamo gli altri non cresceranno eccetera c'è sempre quest'idea che può essere anche messa in crisi ma in qualche modo facciamo scoperta ad esempio pensate la pandemia i vaccini grande soluzione della scienza però al tempo stesso nuovi virus che potrebbero anche in parte essere determinati non direttamente perché non è il genio maligno ma da tutte le nostre azioni indirettamente da tutte le nostre azioni sulla natura su ciò che evita possono produrre nuove malattie nuovi virus e quindi poi noi qui c'è questa continua corsa e in corsa in cui non c'è abbiamo perso di vista e giustamente andate in crisi un certa idea di progresso ora il problema è possiamo ripensare il progresso in un altro modo o do siamo invece obbligati a pensare a un regresso a regredire a forme di vita elementari l'altro giorno partecipato a una attività in cui il tema centrava un po con la sostenibilità e sono stato elogiato ma non dico per darmi aria ma semplicemente per questo perché si faceva il discorso della ricche del come si chiama della raccolta differenziata e di come e dei costi delle implicazioni di questo e di come ci sono tanti prodotti che noi usiamo che sono misti e che di fatto non vanno nella differenziata cioè il sistema di raccolta e di riciclo non ce la fa allora io spiegavo che ero rimasto molto contento perché devo spedire un documento a mio figlio che sta a milano normalmente andavo vado in cartoleria compro una busta e fino all'altro giorno mi davano in questi casi quelle buste avete presente con quella cosa di plastica con quei pallini che poi ci uno può divertirsi a schiacciare no ecco compravo quella la spedivo oppure anche per mandare un libro un nostro collega ad esempio è ottima perché in balla e la cartola mi dice ma guarda visto che deve mandare questa roba qua che non è tanto spessa perché non usa queste nuove buste totalmente di cartone rigido che sono molto buone mi ha detto anzi sono meglio adesso di quelle altre che sono peggiorate benissimo mi dia questa mi sembra un'ottima idea e poi ho detto ottimo perché questa è solo di cartone quindi quando mio figlio laurea usa la dovrà buttare la metterà nella raccolta differenziata della carta e andrà di sicuramente nel circuito del del riciclaggio della carta al cento per cento e allora chi c'era limite ecco questo è un ottimo esempio per mostrare come riciclare non significa abbassare la produzione perché qui il concetto è questo se noi dovessimo riciclare tutto come un po facevano le generazioni antiche no per cui ad esempio una bottiglia di vetro la utilizzavi per anni e anni eccetera nessuno produceva una nuova bottiglia e quindi c'è lo spettro di una diminuzione della produzione quindi il pile tutta quella invece no questa ci sarà qualcuno che produce la busta di carta completamente riciclabile quindi diamo lavoro a qualcuno il nostro pil continua a stare in buone condizioni e al tempo stesso però facciamo qualcosa che non danneggia il pianeta e ci prendiamo cura del pianeta meglio poi magari saranno forme ancora migliori che dovremmo studiare e questo potrebbe essere un nuovo modo di pensare il progresso ma ve lo butto la come ipotesi e mi fermo qui e passo la parola a dario non so con giorno ben trovati ben trovate come sapete parlerò di risorsa di questo termine insomma le parole di sofia si 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 rivolge all'analisi no insomma l'interpretazione di di termini e mi è una cosa particolarmente congeniale perché nella mia ricerca filosofica sono sempre stato molto incuriosito insomma intrigato non in generale dai dai termini ma da quelle parole che si usano tanto in tanti ambiti e di cui poi alla fine abbiamo difficoltà a trovare una definizione univoca una di queste ovviamente risorsa no insomma la trovate in parte del discorso pubblico del discorso comune le risorse naturali le risorse umane no per chi di voi magari interessato a lavorare in azienda no insomma sapete che c'è non solo in azienda anche all'università c'è ci sono uffici delle risorse umane allora che cosa c'è in comune possiamo dire qual è il comune denominatore della della risorsa che fa in modo che questo termine sia applicato tanto agli umani quanto alle agli elementi naturali o quant'altro e dal momento che appartengo diciamo così a una a una a un tipo di filosofia che si chiama teoria critica pensiero critico quando mi capita appunto di osservare che in certo termine è usato e abusato fino a perdere come dire una sua connotazione chiara io mi insospettisco insomma purtroppo ve lo dico faccio parte di quelli della teoria del sospetto c'è una certa categoria di filosofi che a un certo punto ecco non si fidano delle delle sorti progressive loro vanno un po a rompere scatole insomma vanno a vedere ma come mai questo termine no a un certo punto funziona così bene perché poi quello è il discorso no insomma c'è un c'è un modo di alcuni termini che ha più a che fare con il funzionamento con l'effetto anche psicologico che produce piuttosto che col contenuto e dunque mi sono un po interessato anche appassionato ci mancherebbe altrimenti non fare questo mestiere a questo termine a questa parola risorsa che in realtà ha un origine piuttosto recente insomma più o meno siamo alle alle soglie del settecento non insomma sulla soia quindi dell'epoca del progresso è un termine che in realtà deriva dal francese che lo riprende per certi versi dal latino e che però ha un significato un po particolare un po diverso da quello che ci aspetteremo ecco siamo in quest'ala quindi mi è difficile chiedervi cioè vi avrei chiesto volentieri magari in un'aula più piccola voi come definireste risorse no se mi dicessi ecco che significa risorsa sarei stato molto curioso di sapere che cosa voi avreste avuto da dire vi avrei chiesto risorsa e non risorse umane risorse naturali cioè senza qualificazione particolare esclusivamente il termine risorsa secondo me avremmo me per primo trovato qualche difficoltà a trovare una definizione univoca e vi dicevo appunto che questo termine comincia a entrare nel lessico delle lingue occidentali ovviamente europee innanzitutto intorno alla metà del seicento e se guardiamo all'etimologia risorsa a che fare proprio con il mondo naturale la risorsa è a effettivamente anche il participio passato di quell'attività che fa lo zampillio dell'acqua di una sorgente che continuamente no zampilla quindi a che fare con una risorgenza piuttosto che con una qualcosa che si può quantificare definire determinare no a che fare con un movimento iterativo di eterna risorgenza no appunto è proprio la sorgente d'acqua che continua inesorabilmente a zampillare sembra in un certo senso che interrompa ma poi dopo un po riprende no questo questo movimento e se vogliamo si fa abbastanza diverso no da come intendiamo noi oggi risorsa che più che altro è legata a una quantità discreta no la risorsa dell'acqua noi la dobbiamo quantificare no per stabilire se è scarsa abbondante e così via no insomma anche le risorse umane quando voi vi troverete a fare dei curriculum dovete quantificare le vostre competenze no le vostre risorse quanto ne sapete di inglese di informatica e così via per esempio e solo successivamente entra nel lessico economico il termine risorsa quindi andando poi a determinare una quantità discreta di qualcosa e ora dal mio punto di vista questa origine diciamo così del termine risorsa mi richiama in realtà qualcosa che risale molto al di là del tempo no insomma che risale a molto prima ecco insomma apro una piccola parentesi questo tipo di ragionamento filosofio che che vi sto proponendo si definisce genealogia io sto facendo una genealogia del termine risorsa che qualcosa di diverso ad esempio dalla linea del progresso no di cui vi parlava prima prima marco che cos'è una genealogia una genealogia parte da un problema da un punto da una questione da un termine che oggi ci interessa e va a risalire indietro andando a individuare senza seguire la linea del tempo cronologica va a individuare quei momenti nella storia in cui emerge una trasformazione un cambiamento all'interno della vicenda della storia di questo termine io questo sto facendo cioè sono partito da un problema o terminologico attuale che cosa significa risorsa e sto andando a ritroso a vedere i momenti all'interno della storia momenti quindi dotati di un certo significato appunto stiamo alla nel pieno della modernità ma alla vigilia diciamo di quella grande stagione della della dell'illuminismo no insomma della del dominio diciamo così della ragione che il settecento quindi siamo un po prima poi vedremo ci torno su quella fase su quell'epoca lì ma appunto sto andando ancora più indietro per andare a vedere un po quell'origine che per me potrebbe essere legata al termine risorsa nel senso appunto di risorgenza di qualcosa che costantemente permanentemente fuoriesce di nuovo no non si arresta mai non si ferma mai quindi qualcosa che in un certo senso va in un in una direzione diversa rispetto ripeto a come intendiamo noi oggi risorsa come qualcosa si può quantificare che possa dire che è scarsa o abbondante ora è che si esaurisce si poi arriveremo anche all'esaurimento tra cui anche all'esaurimento nervoso delle risorse umane che insomma è un problema che un po' ci riguarda tutti e io per certi versi risalirei come origine diciamo del senso del significato di risorsa in quanto risorgenza non in quanto movimento eterno permanente di riproduzione di se stesso addirittura a uno dei punto testi tra i più classici della filosofia occidentale il simposio di platone voi non so se l'avete studiato il simposio quantomeno ne avete sentito parlare vabbè insomma la cosa più più nota probabilmente del simposio è l'elogio che fa socrate di eros e ne fa diciamo la genealogia familiare in quel caso e dice che eros è figlio di penia e poros ora se noi andiamo a vedere le varie edizioni del simposio di platone in italiani in altre lingue troveremo sempre significati diversi per questi due personaggi penia e poros ad esempio la cosa forse la traduzione più consueta è quella di definire penia scarsità povertà miseria la madre di eros che desiderio e poros risorsa esattamente ora lì sorge un problema come fa a generarsi qualcuno qualcosa eros non figlio da un rapporto tra povertà scarsità e risorsa se intendiamo risorsa come una quantità definita perché perché lì si attiverebbe un principio di compensazione mi manca qualcosa prendo esattamente quella cosa che mi manca la somma è uguale a zero non ne viene fuori niente di nuovo qui dobbiamo un po andare a a rielaborare questi termini e allora in realtà dal momento che all'epoca di platone por la il senso di risorsa attribuito a poros non poteva essere quello di una quantità discreta di qualcosa che appunto rientra nel discorso economico per cui mi manca qualcosa vado al mercato scambio quello che ho in più con quello che mi manca e quindi siamo contenti sia io che vendo sia colui che acquisisce no che acquista insomma stiamo nel baratto quindi non si può pensare che eros si produca nasca si generi dal baratto no perché risorse in realtà poros ha un significato un po diverso perché come riportano in realtà altre traduzioni di poros poros significa espediente ingegno quindi è una risorsa certa ma non nel senso di una quantità di qualcosa che va a compensare una mancanza una scarsità perché dico che penso che questo sia il senso di risorsa originario appunto risorsa in quanto espediente ingegnosità e per cui eros desiderio qualcosa che ci spinge oltre perché il significato che per perdone era un significato politico attenzione esattamente quello che rispetto a una condizione di difficoltà a un ostacolo per cui quello che noi sappiamo quello che abbiamo a disposizione non è sufficiente per superare questa condizione di difficoltà questo ostacolo dobbiamo a quel punto ingegnarci trovare spedienti rispetto a una situazione che apparentemente non ci lascia alternative per inventarci qualcosa di nuovo per superare questa questa difficoltà questo eros cioè è la capacità ripeto per pratone tutta politica di trovare soluzioni per problemi inediti non soluzioni per problemi conosciuti ma soluzioni per problemi che non ci sono mai trovati ad affrontare quello desiderio desiderio quindi non è qualcosa che si può compensare che non è qualcosa per cui ha desidero che diceva prima marco uno smartphone vado al centro commerciale e lo compro no quella che fare più con l'ordine del bisogno sento che mi manca qualcosa e vado a acquisire esattamente ciò che mi mancano desiderio in realtà è senza oggetto desiderio il termine stesso latino se vogliamo mira alle stelle no è qualcosa che ha una proiezione siderale quindi qualcosa che è irraggiungibile ma non perché il desi dobbiamo sempre tornare al romanticismo il desiderio deve essere per forza qualcosa di straziante di drammatico per cui qualcosa che non possiamo e non non riusciamo mai a soddisfare no ma il desiderio esattamente quello che ci spinge oltre al di là la condizione presente no che ci fa cambiare che ci fa trasformare che ci fa rinnovare appunto sarebbe cioè sarebbe divertente no ma in realtà la traduzione migliore sarebbe proprio vivere di espedienti se oggi non fosse appunto una condizione maledetta quella no di vivere di espediente perché è come se avesse a che fare con la con la povertà con l'indigenza in realtà era una modo di vivere nobile quello di trovare ogni volta l'espediente per uscire da una condizione che ci sembra senza alternative e tra l'altro sto dicendo spesso senza alternative perché ecco per tornare anche alle cose che diceva marco piazza prima e lo slogan del neoliberalismo dei snow alternative forse ne avete sentito parlare non insomma era la famosa frase che disse margaret thatcher quasi insomma negli anni 80 quindi verso la fine della guerra fredda dicendo dall'altra parte non è un'alternativa non c'è una vera alternativa alla al capitalismo al liberalismo e all'occidente ha avuto ragione effettivamente però questo tipo di discorso oggi è un discorso che procura una se ci pensate bene una condizione quasi di sofferenza sociale c'è il pensare che non ci sono alternative che ormai il mondo è questo lo diceva benissimo marco prima cioè siamo arrivati a un punto tale per cui viviamo in un eterno presente per cui non possiamo altro che provare a cavarci al meglio possibile ma senza poter aspirare appunto il desiderio eros a qualcos'altro insomma dobbiamo più o meno arrangiarci con quello che ci abbiamo e questo vivere senza alternativa in realtà ha una ricaduta psicologica abbastanza importante no insomma penso forse soprattutto per voi cioè il fatto di avere manco vent'anni e già pensare che no siamo quasi in una condizione no di ineluttabilità se non fosse che l'alternativa lo diceva prima marco sembra più catastrofica che altro piuttosto che come dire ottimistica e quindi insomma in realtà risorse a che fare con tutto ciò a che fare col desiderio a che fare con eros a che fare con una capacità tutta umana di trovare soluzioni lì dove sembra non ci siano alternative ora torniamo invece a quando a quando questo termine risorsa entrato nel lessico economico stiamo intorno al alla metà del seicento e dove prima insomma il significato più o meno era questo qua cioè vivere di espediente trovare soluzioni per rialzarsi cavarsela no insomma questo era il significato precedente che aveva appunto a che fare con questa discorso platonico del simposio in realtà è nel poco prima appunto del insomma intorno al xvi secolo ripeto che assume il significato di mezzi economici d'esistenza quindi come dire lì comincia la quantificazione delle risorse che succede perché proprio allora perché a un certo punto fra fine del cinquecento metà del seicento risorsa comincia a significare qualche altra cosa e perché il vivere di espedienti che attenzione era una condizione santa pensiamo a san francesco d'assisi ad esempio no viene demonizzata no il povero è colui che deve mettersi a lavorare deve essere messo al lavoro ci sono due cose fondamentalmente quasi contemporaneamente in europa la nascita del capitalismo e dall'altra parte dell'oceano appunto lo sfruttamento delle risorse naturali dell'america latina per cui guardate la il rapporto appunto di compensazione arrivano dall'america del sud una quantità immane di ricchezze una quantità immane di ricchezze che arrivano in europa e non ovviamente non vengono redistribuite no ma allo stesso tempo fanno in modo questo lo dice marx e alcuni soprattutto le compagnie commerciali possano accumulare queste risorse dando origine a quella che marx chiama accumulazione originaria e così dare avvio diciamo così al al capitalismo stesso quindi da una parte abbiamo abbondanza abbondanza di risorse che insomma c'è un libro meraviglioso che io amo particolarmente di edoardo galeano che si chiama le vene aperte dell'america latina dove fa un po la storia è una storia delle risorse che sono state sfruttate ed esportate dalla dall'america latina insomma sono varie fasi a un certo punto la la risorsa fondamentale era lo zucchero poi il caffè e e quant'altro non insomma annanzi tutto era l'oro l'argento e così via non insomma a un certo punto si sfrutta quel quel territorio lì insomma quel quel continente intero e e allo stesso tempo però appunto lì nasce l'economia moderna perché da una parte ha a che fare con la con l'abbondanza e dall'altra parte con un discorso per cui devi mettere al lavoro la popolazione perché si passa dal regime feudale legato alla terra al regime di lì a poco industriale quindi non puoi più vivere espedienti devi andare a lavorare in fabbrica fondamentalmente quindi l'economia moderna nasce da da questo rapporto tra abbondanza e scarsità abbondanza di risorse dall'america latina e scarsità di mano d'opera per la nascente industria devi tenere insieme questi due discorsi ora l'economia da allora ha sempre tenuto insieme abbondanza e scarsità questi due discorsi facendo che cosa mettendo a valore però innanzitutto la risorsa come desiderio come eros ora io vi posso leggere una definizione tra le più diciamo così accreditati di economia siamo negli anni cinquanta lui si chiama lion e robbins insomma vi parlo di una definizione di economia da manuale quindi non è insomma una cosa che vanno da trovare in archivi polverosi è proprio una definizione da manuale e lion e robbins così definisce l'economia è insomma prestigioso economista land of school of economics e teoria marginalista eccetera eccetera la definisce l'economia e la scienza che studia la condotta umana quindi attenzione ci stiamo spostando sulle risorse umane in quanto relazione tra scopi e mezzi scarsi applicabili ad usi alternativi questa è la definizione di economia non ha a che fare con la quantità a che fare con le condotta con la condotta umana con i nostri comportamenti con i nostri atteggiamenti con le nostre abitudini che è un tema di cui si occupa ma insomma nei suoi studi presupponendo che cosa scarsità di risorse umane cioè noi abbiamo mezzi scarsi cioè non partiamo da una condizione diciamo così di pace come dire di serenità per cui abbiamo quello che ci serve no l'economia presuppone il fatto che siamo in una situazione di difficoltà di scarsità cioè le nostre dotazioni antropologiche sono scarse però questa scarsità è messa a valore perché deve e può essere ottimizzata per trovare soluzioni inedite usi alternativi rispetto appunto alla condizione di mancanza e carenza in cui viviamo cioè sta definendo l'eros platonico rispetto appunto a una condizione di scarsità mi manca qualcosa sono carente in qualcosa nei vostri curriculum ripeto innanzitutto ciò che si vede ciò che potete migliorare potenziare non quello che già sapete ma chi gli importa importante è quello che riuscite a promettere eh che vi impegnerete appunto alle risorse umane che riuscirete a valori che voi stessi siete il vostro capitale umano che riuscite a valorizzare perché per per trovare soluzioni inedite modi nuovi inventarvi qualcosa ingegnarvi ora è questo allora forse secondo me e qui concludo il significato più proprio più originario ma anche più più valido di risorsa che è quantificato soltanto in un certo senso perché possa essere calcolato no e possa entrare dentro una economia in senso come dire appunto quella del baratto se vogliamo l'economia di mercato però ciò che ha valore soprattutto questa stessa capacità di desiderare quindi di superare se stessi di andare oltre se stessi no questa capacità di trovare soluzioni inedite quando non ci sono alternative quando sembra che non ci siano alternative il problema è che quello che pensavano gli economisti dalla modalità in poi ovvero che le risorse mani fossero inesauribili e quindi vengo a quello che mi si diceva prima insomma che marco diceva prima mi suggeriva prima giustamente quello che io che si pensa no che sia inesauribile questa stessa capacità no esauribile pure questa come le risorse naturali l'esaurimento si chiama appunto esaurimento nervoso burnout no cioè come dire attenzione perché oggi siamo arrivati al punto forse con maggiore chiarezza insomma abbastanza evidente no a tutti i livelli che questa scommessa per cui questa stessa capacità era di per sé ripeto inesauribile che il desiderio fosse inesauribile in realtà nel momento in cui come dire non non trova le sue stelle cioè insomma come dire non segue il proprio desiderio è soggetto a esaurimento quindi esaurimento nervoso e anche insomma a sofferenza nulla è peggio appunto di desiderio un desiderio frustrato al bisogno si può trovare rimedio al desiderio no va bene io penso che ho detto già abbastanza e grazie per l'attenzione